Cacca, come l'altro? Vi posso offrire qualcosa? No, no, grazie, ma di te è stata terribile. Senta, mi fa vedere se hanno già pubblicato il mio annuncio per l'agenzia? Ma com'è possibile se l'avete ordinato ieri? Eh, quella lì l'hai vestita lei, eh, sciurcio america. Non è lei che c'ha i pareti a lecco. Ma quando mai? Get out of here. Go away. Go away. Go away. Go away. No, no, no. 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 Prima le persone anziane ho detto. Avanti, avanti. Una volta passate le reti non c'è più pericolo. Vieni, minuto. No, non c'è spazio per tutti. Non c'è più pericolo per la reti non c'è più pericolo all'interno delle reti. Passate le reti non c'è più pericolo all'interno delle reti non c'è più pericolo all'interno delle reti non c'è più pericolo. Si, se hai un certo giardino... Se un certo giardino di chi non ci sono, questo è un seccatore che chiede sempre soldi in prestito. Attenta quanta. Pronto. Sono giardino. Pronto! Buongiorno, voi mi avete messo in un guaio serio. Che è successo? Ma com'è? Io tengo la polizia che mi va cercando e voi dite che è successo. Qui piovono fusilati, il negro d'angoppa a basso. Sì, ma ti vede la bocca chiusa? Sì, io la bocca l'ho tenuta chiusa. Adesso voi mi preparate quella cosa e mi date delle spiegazioni. Sennò quella si apre. L'indirizzo lo conoscete? Sì, sì, l'indirizzo lo so. Non vi muovete. Non vi muovete perché sono in serio pericolo. Non vi muovete. Scemo di vita, buongi di vita e spiegazione. Scemo di vita, buongi di scemo di vita e spiegazione. Signori, signori, è che buongi di vita e spiegazione. Cercava giardini, ci sta? Sì, signori, sì, signori, stai in coppa. Scemo di due gampe. Giardi! 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 Chi è? Chi è? Raffaele capace, salgo. No, non c'è bisogno, Raffae, scendo io. Buongi, 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 aiuto, aiuto! Scemo di vita, buongi, 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 buongi. Grazie, buongi, buongi, buongi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.